Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Sei proprietario di una casa e stai cercando di venderla? Oggi voglio parlarti di un passo molto importante che il tuo agente immobiliare potrebbe averti chiesto di fare, fornire la conformità urbanistica e catastale per la tua proprietà. Potresti chiederti perché ciò sia così importante e perché dovresti ringraziare il tuo agente per avertelo consigliato. Bene, sono qui per spiegarti i 5 motivi per cui dovresti farlo. Perché questa è una tappa che potrebbe fare la differenza tra la vendita di una casa e l'inizio di una causa. La conformità urbanistica e catastale dimostra che la tua casa è stata costruita in conformità con le norme edilizie ed urbanistiche, garantendone così la legalità e rispondendo a tutti i requisiti normativi. Potrebbe sembrare banale, ma questo è un modo per mostrare che la tua proprietà è conforme alle leggi e che non ci sono problemi di conformità urbanistica o difformità di sorda. Quindi una garanzia di legalità. 2. Essere in possesso della relazione di conformità urbanistica e catastale può aumentare il valore della tua proprietà. Quando decidi di vendere casa tua, i potenziali acquirenti saranno più propensi ad essere interessati se possono essere certi che l'immobile sia conforme alle normative. Questo significa che, avendo una proprietà in regola, hai maggiori possibilità di ottenere una valutazione migliore e ottenere il prezzo pieno, quindi valore aggiunto. 3. La conformità urbanistica e catastale è anche l'unico modo per ottenere agevolazioni fiscali e finanziamenti sulla tua proprietà. Infatti, quando un acquirente chiede un mutuo in banca, la regolarità urbanistica e catastale è verificata sempre. Stesso discorso vale per accedere alle agevolazioni fiscali. Questo passaggio potrebbe esserti utile per avere tutte le carte in regola per poter ottenere agevolazioni e i finanziamenti migliori. 4. Anche se non devi vendere casa, è utile avere una relazione sulla regolarità edilizia e catastale. Avere la conformità urbanistica e catastale è anche un modo per garantire la sicurezza della tua famiglia e del tuo patrimonio. Grazie alla conformità urbanistica e catastale, puoi essere sicuro che casa tua sia stata costruita nel rispetto degli standard edilizi e che non ci siano abusi o difformità di sorta. Questo ti offre una tranquillità, sapendo che la tua famiglia e i tuoi beni sono al sicuro. 5. C'è anche un quinto motivo. Forse è quello che più spaventa i consumatori, la possibilità di finire in tribunale. Ecco, molti sottovalutano questo aspetto. Quante volte mi sono sentito dire, qui a casa mia è tutto a posto e tutto in regola, per poi magari scoprire che il precedente proprietario aveva aperto una porta dove non c'era, oppure è spostato un muro interno, oppure è chiuso una veranda. Se non viene effettuata una verifica prima di mettere in vendita casa tua, potresti promettere in vendita qualcosa tutto in regola, per poi scoprire che così non è. Ma a quel punto i danni sono già stati fatti e potrebbe essere troppo tardi per far finta di niente. E tu cosa ne pensi? Se sei d'accordo, lascia un like o un commento qua sotto se il tuo agente immobiliare ti ha già chiesto di fornire la conformità urbanistica e catastale. Ricorda, questa è una tappa molto, troppo importante. Se hai domande o vuoi verificare la conformità di casa tua, contattami, sono a tua disposizione. Grazie per l'attenzione e al prossimo video!